Si sono conclusi ieri ad Andria i festeggiamenti per i Santi Patroni Riccardo e la Madonna dei Miracoli. Tra appuntamenti religiosi, eventi dedicati all'arte ed eventi live, l'ultima giornata si è chiusa con il concerto in piazza Katuma che ha richiamato tanti cittadini un concerto affidato al DJ Fargetta. Allora andiamo a vedere insieme alcuni momenti. Quando sono sempre con te, sono messo in una tazza di te, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono sempre con te, non so più chi sono e perché, con la limpa di mente, e mi scienco di dentro. Quando pensi che mi viene l'ansia da te, io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro. Vogliamo vedere tutte le mani su. Tutte insieme! Tutte! E sono creata sto! Se vuole il ruolo del dolore di me, se vuole il ruolo del mare, se vado via il monte, c'è garmi varia. Con te vuole il ruolo del vento, dentro la cento, dentro la cento. Se vuole il ruolo del sol, quando non c'è il sole, c'è sotto di buona. Poi spegnere tutte queste luci, per favore? Vedo che le teste cominciano a muoversi, le mani si alzano automaticamente, non devo dire nulla, non devo dire nulla. Un saluto alle persone che sono da me in fondo, un saluto alle persone che sono alla mia destra, alla mia sinistra, ma voi che siete qua davanti, tutti, Andrea Marinato! Andrea, facciamo questo esperimento Marinato, facciamo una bella ora, da destra a sinistra, pronti al mio via, via! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì! Sì, 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 sì!